Welcome back Gargiuli e bentornati ad un nuovo episodio della Scopecam by S.A.R. SMT Airsoft. Questa domenica ho voluto provare la mia nuova Ghillie by Amazon. Vediamo come si incomporta in campo sia in comodità ma soprattutto nella mimetizzazione. Nel video vedremo un estratto di due giocate classiche veloci e cattura la bandiera. Rubare quella nemica e riportarla alla propria base di partenza. Ovviamente per vincere bisogna avere entrambe le bandiere, quella tua e quella nemica appunto. Ora vi lascio le immagini e nei commenti ditemi cosa ne pensate della nuova Ghillie. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Sul costone destro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.